ciao a tutti buongiorno e benvenuti in un nuovo video oggi voglio fare con voi il disegno che puoi colorarlo con i colori a matita e volevo fare questo disegno qua che ora vi faccio vedere ecco volevo fare questo disegno qui con voi e poi colorarlo quindi prima che inizia il video vi invito ad iscrivervi al canale assolutamente così arriviamo a più iscritti a puntare più in alto mettete tanti 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 like commentare qui sotto se vi è piaciuto il video e si attivate la campanella per non perdere ogni volta che esce un nuovo video ora iniziamo il video scusate se temate ora inizio a fare un po il disegno e dopo vi faccio vedere eccomi sto iniziando insomma è quasi finito scusate mi stiamo dicendo ecco io ancora lo sto praticamente finendo ma devo sistemare questo qua vedete perché è un po male l'ho ridisegnato quasi insomma quasi uguale ma non non del tutto però mi manca solo diciamo un fiore che è molto più grande di questo disegno detto mi piace proprio fare il disegno ora rifarò cioè non rifarò ma farò un altro po di disegno c'è questo che è un po di disegno c'è questo che è un po di disegno c'è questo che è un po di disegno insomma da fare sto controllando se non ho fatto bene ma vediamo ok qui e sto sistemando un po di cose ma poi mi manca l'ultimo fiorellino da praticamente fare e poi ho finito e poi lo devo cioè devo solo controllare la scatola e la scatola e la scatola si era finismi ma anche con hai di 這個 per questo semplice quindi le va fare poi devo solo colorarlo finendo insomma di disegnare il mio mitico disegno cioè il tablette qui praticamente non volevo via allora finiamo di farlo questo e poi dopo lo coloriamo insieme faccio vedere dopo che stavo dicendo ve lo faccio vedere dopo che ho finito comunque lo congelo con questa gommina qua perché non ho gomme da cancellare ho proprio voglia di disegnare di fare e tant'altro però è una mia diciamo una mia passione anche disegnare manca solo il come si chiama solo il comunque aspetta un attimo voglio parlare un attimo con voi dopo finisco comunque questa agenda che è il disegno colorare cantare è una mia passione infatti qui su youtube lo vedete che porto spesso canzoni cose tant'altro anche dei vlog ho fatto tantissimi vlog non so cioè non è contatti finora però pure i vlog mi piacciono un po' cioè mi piacciono proprio un botto queste fare fare questi vlog e perciò io faccio queste cose anche per far vedere un po' i miei disegni voglio far vedere altri disegni che ho fatto un po' di tempo fa e li faccio a vedere vi faccio vedere quale ho fatto allora eccomi comunque i disegni che mi parlavo erano uno che è questo qua che è il cane molto piccolino però così quello che è quello che ho fatto beh un po' di tempo fa ma questo quello che non so se vi piace oppure no però mi piace già vedete da qui ecco ho fatto questa qui che è tipo una principessa una cosa come la so però la bocca mi piace tanto gli occhi si però la bocca mi piace però mi piace mi piace un tocco fare queste cose e ora finisco prima di fare prima di fare il disegno e poi arrivo subito da voi comunque ho finito di disegnare il disegno ecco ora si inizia a colorarlo se riesco a trovarne un altro ne farò un altro ora inizio a disegnare e ve lo faccio e prima il disegno un'altra cosa è un'altra cosa non è un'altra cosa ma è un'altra cosa è un'altra cosa Grazie a tutti. 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 Vediamo. Il risultato. Ecco qui il risultato. Il risultato. Grazie a tutti. tra questo è questo. questo è quello che ho disegnato. e questo è quello che ho disegnato. su internet. su internet. quindi... ci sono... il rosso. quindi mi raccomando. iscrivetevi...